Benvenuti in Beltrani Camper & Caravan, vi presentiamo oggi questo splendido Motorhome Bustner Liseo Time i734G anno 2018. Bustner, casa costruttrice tedesca, sinonimo di grande qualità nel mercato, grande affidabilità, ottima finitura interna, assemblaggio dei materiali ben finito e ben curato, cura al particolare. Scocca interamente in alluminio che rimane lucida nel tempo, Motorhome Bustner semi nuovo unico proprietario anno 2018, 5 posti letto, 4 posti omologati per il viaggio, con garage, con grande garage e letto nautico in coda con sistema salishield. Il veicolo è un 7 metri e 43 di lunghezza, su motorizzazione Citroen, 2160 CV, qui una coppia ottima, importante, tappezzeria interna totalmente in ecopelle con finitura Bustner. Comfort Pack Fiat, autoradio doppio DIN, cabina comfort, clima cabina, cruise control, airbag passaggero, retrocamera. Il veicolo si caratterizza per avere un mobilio chiaro, con pensili bianchi, riflette la luce, è luminoso. Ottimo rapporto qualità prezzo, si parla di un Motorhome di alta qualità usato, semi nuovo diciamo, al di sotto dei 60 mila euro. Il veicolo ha 16 mila chilometri, comprende gli oscuranti plissettati, il pannello solare che garantisce un'importante autonomia a livello di corrente, la stufa la più potente che c'è, la Truma Combi 6000 a gas, ha il raffrescatore evaporativo Viesa, per cui un veicolo adatto per l'inverno, grazie alla stufa importante, per l'estate, grazie al Viesa, al raffrescatore. Alla porta zanzariera, scambiatore automatico bombole per la sicurezza, la veranda esterna, il braccio porta tv, la disposizione è sicuramente interessante, una disposizione ideale per chi predilige una zona notte comoda, un comfort abitativo importante, letto nautico con facilità di salite e discese dal letto, entrata a destra e sinistra, bagno con doce separata, possibilità di separare il giorno dalla notte, importante cucina L, frigo grande da 150 litri, letto basculante anteriore che lascia la dinetta completamente libera e vivibile, una bellissima dinetta L con seduta laterale, porta grande da 600, un veicolo seminuovo veramente interessante, disponibile da Beltrani.